la promessa anticipazioni. Oggi abbiamo delle anticipazioni mozzafiato sulla serie La Promessa, che vi lasceranno senza fiato. Preparatevi a un turbine di emozioni, perché le prossime puntate saranno piene di colpi di scena incredibili. Ma prima, lasciate un commento qui sotto e diteci, chi secondo voi nasconde il segreto più grande in questa storia? Petra suggerisce a Cruz di Ramona, ma Cruz preferisce solo tenerla d'occhio. Intanto, Orengo arriva alla promessa con un regalo per Candela, che però continua a evitarlo. Petra minaccia Pia di farle fare una brutta fine se continuerà a dire bugie su di lei e suo fratello. Feliciano, stanco di essere il capro espiatorio, propone a Petra di dire la verità sul perché hanno rubato il bambino, ma lei si infuria con lui. Durante una conversazione con Cruz, Lorenzo la avverte di non inimicarsi i cognati. Ma Cruz è determinata a impedire il fidanzamento alla promessa, cosa che Margarita trova ridicola. Fernando propone ad Alonso di comprargli la promessa, per risanare i suoi debiti, mentre Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte. Ma Jana non le crede. Petra si intrufola nello studio di Pia, prende il bambino e gli confida che Feliciano è suo figlio, ma Pia la scopre e la caccia. Petra allora chiede informazioni su Ramona a Simona, che le conferma il ritorno della donna in paese. Manuel è preoccupato per la gravidanza di Jimena, ma Jana lo rassicura e gli suggerisce di fidarsi del medico. Orengo chiede a Candela una risposta sul matrimonio, ma lei non è pronta e Pia la esorta a seguire il cuore. Teresa è sconvolta da uno schiaffo ricevuto da Jimena, ma non vuole denunciare l'accaduto, per paura delle conseguenze. Cruz è isterica per la possibilità che Fernando e Margarita comprino la promessa e avverte Alonso che il rischio è reale. Feliciano cerca di chiarire con Pia, ma lei lo incalza con domande precise. Jana nota che Jimena ha sbalzi d'umore e chiede ad Abel di far capire a Manuel l'importanza di starle vicino. Abel sospetta che Manuel sia innamorato di Jana dopo aver visto un suo ritratto tra i suoi disegni. La morte di Fernando, causata da un infarto, sconvolge tutti. Cruz, presente al momento dell'attacco, esita a somministrargli la pillola salvavita. Martina trova il corpo senza vita del padre e la notizia si diffonde rapidamente. Maria e Salvador tornano alla promessa dopo l'operazione di Salvador, ma dovranno attendere per capire se ha riacquistato la vista. Carlos propone a Candela di sposarlo, provocando grande confusione nella cuoca. Feliciano cerca di riconquistare l'amicizia di Salvador dopo il rapimento di Diego. Jana consiglia a Curro di stare vicino a Martina, mentre Abel continua a sospettare di Manuel. Cruz è preoccupata per il miglioramento di Ramona e chiede a Petra di indagare. Infine, Margarita accusa i marchesi della morte di Fernando e fissa il funerale per il giorno successivo, lasciando tutti sorpresi. Orengo rivela a Candela che Simona la sosterrà qualunque scelta faccia. Margarita giura vendetta contro Cruz al capezzale del marito. Che cosa ne pensate? Chi, secondo voi, è il vero colpevole dietro questi intrighi? Lasciate un commento e fateci sapere la vostra opinione. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime incredibili anticipazioni. Vi aspettiamo al prossimo video con altre rivelazioni sulla serie La Promessa.